Nuovo look, passione di sempre, mercoledì scatta la campagna abbonamenti della Trentino Volley, novità della prossima stagione una tessera che consente di assistere a tutti i match ufficiali disputati all'interno della BLM Group Arena. Infine lo sport con il Volley tessera full che comprende l'ingresso a tutte le partite ufficiali che Itas Trentino giocherà all'interno della BLM Group Arena nel corso dell'annata sportiva. Questa è la novità della campagna abbonamenti che scatta mercoledì 19 luglio. Sarà doppia e riguarderà il settore maschile e femminile con prezzi e pacchetti dedicati per ogni singola realtà, due tipologie di abbonamento, dunque la standard oppure la full. Quattro i settori, tutti numerati della BLM Group Arena in cui sarà possibile acquistare l'abbonamento VIP, best, gradinata e curva. Dopo aver ridisegnato il logo, lo slogan scelto è nuovo look, passione di sempre. Il lancio della campagna abbonamenti rappresenta come da tradizione il momento di apertura della nuova stagione sportiva della Trentino Volley, quella che prenderà il via ad ottobre. Ma sentiamo qual è il cuore di questa campagna abbonamenti con il presidente di Trentino Volley, Bruno D'Arè. Il cuore di questa campagna abbonamenti è l'unione di queste due famiglie e di avere per la prima volta la parte femminile e la parte maschile della pallavolo in un'unica società, cosa che capita in Italia solo qui a Trento e a Monza da diverso tempo. Questo è il cuore principale. L'altra cosa che è da sottolineare è questa opportunità che vogliamo dare ai nostri abbonati, ai nostri tifosi, di decidere quale tipologia di abbonamento acquistare. Se è un abbonamento a prezzo un po' più ridotto che vale solo per 14 partite, le 11 di regola season e le 3 di Champions, oppure un abbonamento allargato che con poche migliaia di euro in più ti dà però la possibilità di assistere a tutte le partite, tutte finali, semifinali, che giocherà la Trentino Volley in casa.